un'apertura utilizzo in un'epertura in un'epertura e a cura si tratta e si tratta faccio una letta e scappo La mia vita, nell'ambito in cui sono, hai campato famiglie d'Avociamuno, che hanno usato l'arena, l'hai campato senza fare niente. Ma manco prima ne potete dire, perché purtroppo non è una cosa di ora, è una cosa di sempre. Solo che prima io ero solo a partire al momento del bisogno. Uso il dato, è diventato generale. Esatto. no 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 vabbè 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 allora facciamo una cosa tu sei sotto di me io non ti voglio sotto di me tu ti stai al gioppo e te ne vai a pari con me e tu ti vestisci solo il gioppo quando si fa una cosa ti piglio e si fanno subito subito vabbè 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 se no io mi piace quando uno diciamo che mi è stato in pace fermate ti faccio appena una cosa vabbè vabbè 32 vabbè 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 Grazie